Il 10 febbraio 2019, nell'occasione della giornata del ricordo, inaugureremo una targa munita di QR code per ricordare i caduti per l'indipendenza d'Italia chieresi. Altresì per ricordare i fatti, i gravi fatti avvenuti nelle foibe durante l'esodo degli istriani nel periodo del 1943 al 1947. Con questa nuova targa aggiungeremo un momento di cultura storica che unitamente alle altre tre che abbiamo già posto nel parco, confermerà anzi che il nostro parco della rimembranza, pur nella pochezza della sua superficie, è un libro di storia a cielo aperto, in quanto è pur vero che le lapidi, i cippi raccontano un nome, un fatto, una battaglia, ma le nuove targhe raccontano nei particolari tutto quanto avvenuto pari a parecchie pagine di libri storici. Perciò ecco perché si può dire oggi che il parco della rimembranza di Chieri è il più moderno d'Italia.